Sono soltanto 30 i pazienti positivi registrati nelle ultime 24 ore a Caltanissetta e 26 per Gela. Per un totale di 104 pazienti positivi sono i dati relativi ai tamponi intanto effettuati domenica. Aumenta se non considerevolmente anche però il numero dei pazienti ricoverati in malattie infettive. E dai 38 dei giorni precedenti si arriva ai 42 di 24 ore addietro come registra il bollettino dell'ASP. E intanto su Caltanissetta sono 641 i positivi in quarantena domiciliare e sono 5 i ricoverati in malattie infettive. Mentre invece per ciò che riguarda Gela sono 798 i positivi in quarantena domiciliare e sono 14 i ricoverati in malattie infettive. Per un totale di 2926 pazienti positivi in quarantena domiciliare e 42 pazienti invece ricoverati nel totale. Come si diceva nel reparto di malattie infettive non è aperto il reparto di terapia intensiva perché non c'è nessun paziente ricoverato fino ad oggi. Sono 4 invece i pazienti che sono stati spostati negli altri presidi ospedalieri.